Vincenzo Macello, responsabile di direzione territoriale RFI Liguria, ci siamo stati contattati dai vigili del fuoco per un cedimento strutturale di una palazzina di privati e abbiamo interrotto la linea subito. C'è stato un cedimento strutturale, adesso è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco e pertanto è il tempo di liberare la linea dai muri prefabricati che sono caduti sulla nostra linea e ci saranno gli accertimenti del caso. Nessun ferito per il crollo della parete della palestra delle scuole elementari rovinato sulla linea ferroviaria alla Igueglia. Nel caos la linea Genova-Savona-Ventimiglia con dirottamenti stop nella stazione di Albenga. Un cedimento per nulla annunciato già che la costruzione era anoverata fra i luoghi di rifugio in caso di emergenza e che ospitava anche i mezzi della protezione civile ora spostati al parcheggio della Sara. Restano da accertare le cause del danno e di questo particolare evento che ha lasciato parrebbe integri i pilastri su cui la parete oggetto del crollo era stata agganciata durante la costruzione. Grazie. 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 Grazie.